Andrea Moro, sorridiamo per questo argento, è mancata una stoccata, poteva anche essere oro, però insomma un'altra medaglia all'ennesima del tuo ricco palmaresse, quanto vale Andrea? Sicuramente è una bella medaglia, perché comunque l'argento europeo, solo che appunto per una stoccata non sono riuscita a far suonare l'ino italiano e questo mi dispiace un sacco, anche perché comunque è la stessa finale del 2018 e la famosa finale che ce l'avevo qua, infatti oggi ero bella carica e convinta, volevo vincere, peccato però comunque sempre una medaglia, un argento, un bel argento e la prossima volta sarò ancora più carica.